Wella ragazzi da oggi vi ricordo che potete supportare il vostro creator preferito attraverso la scheda negozi oggetti Cliccate su supporta un creatore e inserite il mio nome jkpr-ucalabres accetta Dopo che avrete cliccato accetta ragazzi controllate che ci sia scritto sul creatore supportato il mio nome Quindi ragazzi se le mie live e i miei video vi hanno strappato almeno un sorriso in tutto questo tempo Vi ricordo di inserire il mio nome in creatore supportato jkprucalabres e ringrazio chiunque lo farà Ma bando alle ciance vi ringrazio e vi lascio al video Ciao belli Wella ragazzi io sono un calabres e vi do il punto in questo nuovo video di fortnite Allora quest'oggi siamo in compagnia di ingravitatore Ciao ragazzi Bella ingravitatore grazie per la tua presenza Quindi spiegheremo i vari motivi che mi hanno fatto pensare a quest'arma come la più forte attualmente su fortnite Ovviamente se usciranno altre patch nuove o aggiungeranno altre armi o nerferanno addirittura questa qui Allora cambieremo e rifaremo un altro video Però fino a quel momento secondo me l'arma che andremo a vedere tra poco in game è la migliore Ingravitatore sei pronto? Prontissimo Sempre pronto Grande ingravitatore Ci vediamo subito in game Eccoci ragazzi in gioco Adesso andremo a scoprire qual è l'arma più forte del gioco Come vedete nell'inventario abbiamo 4 armi Se noi facciamo così I primi 3 slot dell'inventario Sono con la combo più utilizzata dai giocatori di fortnite Se italiani che stranieri Quindi abbiamo l'assalto come arma principale Da lontano Arma da vicino Ivi Shotgun Da squicciare subito la mitraglietta Questa combo va bene quasi in tutti i casi Però secondo me Secondo me Questa combo qua È meglio rispetto alla mitraglietta Quindi ragazzi L'arma più forte del gioco Avete capito bene È appunto la Desert Eagle Desert Eagle Cannone portatile La conoscete tutti Di recente Circa un paio di settimane fa Gli hanno messo un buff Che non tutti conoscono Non siamo interessati a queste piccole cose Ma c'è da dire ragazzi Che la Desert Eagle È diventata un'arma letale Andiamo a vedere subito Come utilizzare al meglio questa combo E come utilizzare al meglio la Desert Eagle Ci possiamo trovare ragazzi In questa situazione Ok? Con la mitraglietta Se abbiamo la combo normale Ok guardate quanto ci mette Per distruggerlo L'avversario già potrebbe capire Che stiamo cercando Di distruggere La sua postazione Invece ragazzi Con la Desert Eagle Se abbiamo questa combo qua Vedete ragazzi Semplice Un colpo E buildiamo Quindi Un colpo e buildiamo ragazzi Un colpo e buildiamo ragazzi Diciamo che la Desert Eagle Dopo il buff Hanno permesso Che con un colpo Riesci a distruggere Tutta la struttura Praticamente In legno Stessa cosa ragazzi Se qualcuno ci vuole pushare Se qualcuno ci vuole pushare Vai 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 Bom Questa è la Desert Eagle Ragazzi Cosa che non possiamo fare Con l'assalto Invece con l'assalto Ragazzi Se ci vuole pushare Quanti colpi servono Servono tanti colpi Ragazzi Ok Stessa cosa Se ti costruisci sempre più in alto Prova a buildarti Sempre Ragazzi Rimane spiazzato ragazzi Rimane spiazzato ragazzi Rimane spiazzato Vedete Quindi il fatto che possa Distruggere Le strutture avversarie Con un colpo solo Sempre sono in legno Una delle armi più forti Se non la più forte Ma come mai È la più forte ragazzi Anche perché fa Un danno Abominevole Ragazzi Non è un'arma letale Solo per il fattore De building Quello è un di più Che si può diciamo Adattare Al meta di gioco Il meta di gioco Ragazzi Può variare In base agli update In base ai cambiamenti E appunto Il meta secondo me È cambiato Grazie alla Desert Eagle A questo buff Della Desert Eagle Da vicino ragazzi Se vediamo le statistiche Toglie 75 di body shot E 150 di headshot Ma la cosa bella ragazzi È che se ci allontaniamo Ok Se ci allontaniamo ragazzi Dalla lunga distanza Toglierà 66 ragazzi E 134 di headshot Ok Da una media distanza Fino alla massima distanza Toglierà 50 di body shot Che è tantissimo ragazzi Per un'arma del genere Ragazzi Ragazzi la cosa inoltre Fondamentale È che al posto di essere Projectile Come il cecchino Il cecchino Prima di arrivare al colpo Ci mette Qualche Millesimo di secondo Ragazzi Ok Quindi dovete puntare Dove credi che Lui sia Con il cecchino Invece con la Desert Eagle Questo non succede Perché è hit scan Ovvero Dove puntiamo Spara Istantaneo ragazzi Hit scan Quindi raga Il massimo della distanza E del danno Sarà 50 E 100 Ragazzi Di headshot Di conseguenza Con questo piccolo buff Piccolo buff Buff enorme L'hanno reso un'arma letale Quindi 50 di bodyshot E 101 di headshot Senza considerare Che è un'arma Abbiamo trovato L'arma epica E non leggendaria Voi mi potete dire Però Che l'EV shotgun Non può andare In combo Con la Desert Eagle Allora C'è una soluzione Anche a questo Al posto dell'EV shotgun Utilizzate il TAC Fucile pesante tattico Quindi ragazzi Da vicino Utilizziamo solo il TAC Ok Che spara a rabbica Così anche se Mi stiamo qualche il colpo Non ci sono problemi La Desert Eagle La utilizziamo Come sidearm Per quel Piccolo Diciamo trucchetto Che vi ho insegnato prima Ok ragazzi Possiamo distruggere E ricoprire Per questo piccolo Trucchetto qua Se la combo I V shots Che hanno comunque Fucile a pompa Fucile del nonno E Desert Eagle Non vi piace Abbiamo qualcosa Di più letale Da vicino Quindi ragazzi Primo slot Assalto Secondo slot TAC E terzo slot Desert Eagle Ok Non per switchare arma Mentre sparate Ma per rompere la struttura E buildare Se siamo veloci abbastanza Possiamo fare quello che vogliamo Quindi ragazzi Ricapitolando La combo principale Era Fucile a pompa E mitraglietta Possiamo fare TAC E Desert Eagle E se vi sentite Proprio sicuri Ho fucile a pompa E Desert Eagle Ho i V shotgun E Desert Eagle Tuttavia ragazzi Il mio consiglio È di iniziare con questa combo qua Combo iniziale Ragazzi Questa è la combo Più devastante Assalto TAC E Desert Eagle Per quelle due motivazioni E in più il danno Abominevole Che fa 150 di headshot E il nemico muore Grazie Ingravitatore Per la sua presenza E spero che il video Vi sia piaciuto ragazzi Se volete delle delucidazioni Ragazzi Scrivete nei commenti Io sono qui per voi E niente raga Risaluto ancora Ingravitatore Che si è smutato Ciao Ciao Ingravitatore Grazie mille Iscrivetevi al canale Lasciate un bel like Al prossimo appuntamento Ciao belli Ciao